Buon lunedì 27 dicembre, il primo giorno della settimana Maria di Magdala corre ad annunciare che il corpo di Gesù non è più nel sepolcro, si rivolge a Simon Pietro, il quale immediatamente con il discepolo che viene definito come colui che Gesù amava, corrono verso il sepolcro e il discepolo amato arriva per primo ma sosta, è attraversato probabilmente da un timore, poi arriva Pietro che trova il coraggio di entrare e vede la scena e i teli posati per terra e il sudario avvolto da parte e questo infonde il coraggio del discepolo amato. Allora tutto questo, che apparentemente è di difficile interpretazione, svela un quadro fondamentale della dimensione dell'amore, ed è prima di tutto una condizione che chiede un certo grado di parzialità e di apertura nei confronti di una vita intensamente vissuta nella dimensione della condivisione, sono due discepoli che corrono, uno corre più veloce, l'altro arriva e sembra avere più coraggio e qui c'è ponderazione, intensità sentimentale che si incontrano, ragionevolezza e passione e questo ci porta a vivere intensamente l'intimità del gesto d'amore e contemporaneamente viverlo in una incarnazione di vita comunitaria nella quale l'altro ci potrà infondere il coraggio di entrare e vedere, perché qualche volta la dimensione sentimentale dell'amore annichilisce il nostro coraggio, che troviamo anche in coloro i quali non possiamo dire di poter amare, ma che rappresentano il luogo nel quale l'amore si apre e si infonde di disponibilità a entrare e vedere. E' un passaggio molto difficile sul piano psicologico, giustamente molti hanno affermato che noi non possiamo dichiarare di amare tutti, di amare il mondo, noi amiamo qualcuno in particolare e dentro a quell'esperienza costruiamo la dimensione dell'amore, ma a tutti coloro i quali, per una impossibilità concreta e reale. Non possiamo avere le risorse sufficienti per poter amare, perché non è una questione meramente sentimentale, ma è la costruzione di un rapporto e noi abbiamo un numero limitato di rapporti. Ma questa doppia presenza di Simon Pietro e del discepolo amato ci consegna la relazione d'amore come luogo non esclusivo, ma di apertura e di inclusività anche nei confronti di coloro i quali non abbiamo le risorse sufficienti per poter amare, ma che camminano insieme a noi, che magari arrivano un po' dopo, ma che ci rassicurano. E vedete, questo ci insegna che la singolarità, per certi aspetti l'esclusività della relazione d'amore deve essere capace di aprirsi costantemente alla vita comunitaria, al senso di appartenenza, all'amicizia, alla condivisione. Buona giornata a tutti.